Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su PES 2021 con il nostro Monza Allora, prima di tutto dobbiamo uscire da questo periodo terribile, veramente terribile Siamo terzi in classifica, a meno 10 dal Lecce che tanto non perderà più Quindi di conseguenza è un miracolo se riusciamo a rilanciarlo Allora, allora, facciamo le cose con un senso Intanto Marchesi è in forma, perché non metterlo? Perché non provarlo? Sacchini è in forma, perché non provarlo? E Lombardi mettiamo in panchina al posto di Lepore, tanto non lo metterei mai Andiamo a giocarcela così Ragazzi, io mi voglio fidare della squadra, voglio giocare con calma e voglio vincere contro Lascoli In qualsiasi maniera, perché bisogna che ci riprendiamo Siamo in una situazione veramente terribile al momento E dobbiamo cercare di uscirne in un qualche modo Non possiamo andare avanti così Allora, si parte Dai ragazzi, vi prego Diamo una bella scossa a questo campionato Che si sta rivelando buono, ma non troppo Soprattutto dopo gli ultimi risultati Veramente scadenti a dire poco Cioè, scadenti a dire poco Bravo Baie Marchesi Baie Harrington Maric Finotto Harrington Harrington Niente Nemmeno calcio d'angolo Prendiamo Era quello a cui puntavo Ma Ma purtroppo Non Non siamo riusciti a A prenderlo Ah, no Il fallaccio Vabbè Importante che l'abito non vede Poi sono contento Harrington è tua Bravo Harrington Baie No, Baie Anzi, no Baie Che dico No, quell'altro Che è Marchesi Mi sa che si Si è Marchesi Marchesi Allora ragazzi Su C'è Paduin? No Simoncino Io sono Juventino con Paduin Ho tanti bei ricordi Che ci frega di me Se non c'abbiamo Paduin Eh Vabbè Comunque Maric Per Harrington No Le ali para Le ali Para bene E siamo ancora lì La squadra È ben partita Devo dire che stiamo giocando bene L'unica cosa che ci manca da un po' di partita è il gol E il gol ci manca Il gol ci manca Purtroppo Se non fa gol Maric Non fa gol nessuno Abbiamo una dipendenza da Maric Purtroppo non va bene Non bisogna essere dipendenti da un giocatore Mamma mia La parata Di La Manna Su Beretta Mamma mia Ma abbiamo rischiato Davvero tanto Calcio d'angolo Bravo La Manna Vai Sacchini Vabbè Questo è fuori Di tanto anche Allora Riprendiamo dal fondo La Manna Per Scaglia Sacchini Bravi ragazzi Marchesi Marchesi Con calma Semplice Finotto Maric Ronald Maric Harrington Harrington No Harrington No No il palo da lì è qualcosa di Di criminoso Di criminoso Ma come ha fatto a prendere il palo Ma come ha fatto Vabbè Io non ho parole Ha beccato un palo da un centimetro dalla porta Ah deve ancora crescere Harrington Deve ancora crescere Bravo Maric Bravissimo Maric Perfino 8 subito Però La palla purtroppo viene intercettata Quindi Niente da fare Scaglia Bravo Non alziamoci troppo Sacchini mio Stai lì Stai lì Sacchini Dove vai Sacchini Dove vai Sacchini mio Ce fai Vabbè Esci la Manna Bravo Baie Per Ronald Per Harrington Per Baie Troppo lunga la palla Però c'è arrivato lo stesso Maric 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 si sbaglia Sbaglia tutto Maric Sbaglia tutto ragazzi Maric sbaglia tutto No 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 Fortuna che questo Al posto delle scape da calcio C'ha le ciabatte Fortuna Se no Questo era già gol Diciamoci la verità C'era Qualsiasi altro giocatore Anche solo Di Serie A Questo era gol Marchesi Maric Harrington Per Ronald Per Maric 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 1 a 0 E' inutile ragazzi Se non segna Maric Non segna nessun altro E' una roba Incredibile Questo giocatore E' veramente Fondamentale Se non ci fosse lui Saremo Non so neanche Se saremo terzi Penso che saremo Sesti settimi Almeno Vai Harrington vai Bravo Harrington Ronald 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 Eh vabbè Ronald c'è il fisico Una formica Contro un leone Quindi immaginiamo già Cosa può accadere Bravissimi Marchesi Maric Harrington Ronald Eh però Ronald Sbaglia il passaggio Ronald Ultimamente Non mi stai piacendo Ronald era partito Molto bene Poi si è un po' perso Con il tempo Secondo me Invece Vai ha fatto l'effetto opposto Vai è Cresciuto Dai ragazzi Harrington Ah niente Era buona l'idea Peccato che Insomma Si potrà fare di meglio Harrington Ronald Maric Per Harrington Vabbè niente Cioè veramente Se non segnava Maric Non segnava nessuno E' l'unico che sa tirare in porta E' l'unico Gli altri non sa tirare in porta Incredibile Vabbè Dai Insistiamo Harrington Marchesi Bravo Sampi Bravissimi Maric Maric Il palo di Maric Il palo di Maric Che salva d'Ascoli Un gol quasi sicuro Vabbè Comunque Devo dire che il primo tempo L'abbiamo dominato Non si può dire nient'altro Stiamo giocando molto bene La squadra c'è Quindi perché Lamentarsi Bene ragazzi Dai Potremmo essere Già su 2-3-0 Ma vabbè Questo è un altro discorso Bravissimo Harrington Vabbè Niente Marchesi Dai Finotto Per Harrington Bravo Ronald E' fallo E' fallo Ma è fallissimo Vabbè Non ci fiscano neanche i rigori però Così Così è brutto Una cosa che Ho notato Di Pest E' che i rigori Non li danno mai Cioè A meno che tu non fai Un errore clamoroso I rigori Non ne prendi mai Ed è sbagliatissimo Perché in realtà Nel calcio vero Di rigori Ce ne sono tanti Soprattutto col VAR E la regola Del fallo di mano Adesso Ce ne sono un botto Su Pessi invece Su Pessi invece Non ce ne sono mai I rigori Che ci guardiamo E' un po' Non molto realistica Sta cosa Boh Vabbè A me sembra veramente fuori Da ogni realismo Questa cosa qui Comunque quello era fallo Casa mia Era anche giato D'altra parte Voi stai fallo Ecco Vantaggio Bene A meno quello Baie 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 E vabbè niente Marchesi Non è male Però Fa alcuni errori Madornali Scaglia Bravo Bravo Maric Arrington Maric Maric E Maric Vai Niente Ha preso pure un pugno In bocca dal portiere Maric Assurdo Comunque Facciamo due cambi Dai Vediamo cosa possiamo fare Intanto mettiamo Armellino Che è un po' che non gioca Per Marchesi Mettiamo Che mettiamo Che mettiamo Delrico Per Arrington Che è stanco E possiamo mettere Chirico Per Ronald Che non si è visto Quest'oggi Cioè Ronald Veramente impalpabile Ha fatto poco e niente Purtroppo Si sta un po' Eclissando Questo giocatore Pian piano Non so perché Chirico Delrico Niente Fuori 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 Peccato Perché il tiro c'era Le ali O negro tua Niente Bravo Sacchini Vabbè Ma quanto dura il vantaggio 15 minuti Cioè per gli altri Dura mezz'ora Il vantaggio Per me è un secondo Ma dai Su Che vantaggio è Bravi Bravi Maric Maric No Se se ne andava Era assurdo Era assurdo Peccato Un po' ci avevo sperato Finotto Maric Per Chirico 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 2 a 0 Monza E adesso direi che è praticamente fatta ragazzi Dai Su 2 a 0 Settantesimo Mi rifiuto di pensare che si possa pareggiare O addirittura perdere Non mi rifiuto dai Non posso Non può essere vero Non può essere vero No vabbè Sacchini Bravo Sacchini comunque non si è mal comportato Devo dire che Sacchini Ne so piccolo Ha giocato bene Eh Delrico Per Baie Parmellino Finotto Finotto però sbaglia il passaggio La Sampia è tua Tranquillamente Baie Bravo Delrico Chirico Maric Ah però non ci arriva Vabbè Finotto Bravo Finotto Ottimo passaggio Baie Per Finotto Finotto No Maric non ci arriva di pochissimo Ancora Baie Finotto Ah Mi hanno fermato all'ultimo Mi hanno fermato all'ultimo No Vabbè Negro è tua Bravo Scaglia Bravo Scaglia Bravo Scaglia Bravo Scaglia ancora Finotto Maric Delrico Armellino Niente È morto Baie Ancora Baie Maric Maric ci prova a calcio d'angolo vero? Dimmi di sì Dimmi di sì Eh sì Eh sì Eh sì Allora Treno Derrico Chirico No Mi ha scavalcato Sacchini Niente Sacchini sbaglia tutto Attacito Sacchini Bravissimo Scaglia Finotto Armellino Per Baie Baie Bravo Bravo Baie Finotto Niente Maric non c'è Baie Delrico Delrico Deviazione E fa il 3-0 Delrico Grazie a una deviazione sfortunata Dei giocatori dell'Ascoli Oh comunque Baie Tanta roba Baie Tanta roba Baie Che assist che ha fatto Baie Delrico Non è autogol È gol di Delrico Perché comunque la palla andava in porta Bravo Delrico Maric Per Finotto Per Maric Ancora lui Ancora lui Ancora lui Maric Eh insiste Maric Ma niente È un po' stanco Si vede Ma c'è Baie Che recupera la palla Delrico Sbaglia tutto però Delrico Sbaglia tutto Delrico Vabbè Ormai È finita Negro Per Baie Bravo Baie Ultimazione Maric Che dico Maric Anzi Non era Maric Però comunque Finotto sbaglia davanti alla porta Finotto sbaglia davanti alla porta Prende un palo Un palo che non ci sta Peccato Ma chi era Che era quel giocatore Che l'ha passata Boh Non l'ho capito C'è un scatto Delrico Calcio d'angolo Per Maric Di testa Il portiere comunque Ci arriva Ma comunque è fuori la palla È fuori Bene Abbiamo dominato In maniera incredibile Ora bisogna vedere Cosa ha fatto il Lecce Il Lecce Ecco Il Lecce ha vinto Ma chiaramente Il Lecce ha vinto 4-2 con Chievo Che è una squadra Una squadra fortissima Il Chievo Una squadra della serie A Quasi Vabbè Niente Quest'anno il primo posto Sarà impossibile Per via di questo Lecce Che è devastante L'unica cosa che possiamo sperare Sono gli scontri diretti Basta Vabbè Messi Giocatore dell'anno Ok Allora Messi Ho capito Grimo Ah miglior allenatore Ah pensavo giocatore Chi è Grimo Rapporto mensile La manna di Maric Migliore del mese 11 del mese Maric cambio di ruolo Ottimo leader Ok Rapporto mensile Arrington cresce ancora P1 71 Lombardi cresce Va bene Wiener 67 Buono E guadagni Vabbè Uribe Chi è Uribe Do sei Uribe Fatti vedere Uribe Fatti vedere Trequartista 69 Beh Beh Non è male Sto Uribe Può crescere Può crescere Tanto Proviamo Perché non posso Ma come sono in trattativa Non è vero Sì ma Cioè Che cosa vuol dire Cioè io non posso trattare Con più di 5 giocatori Cioè nel senso Questi li ho già comprati Non sto trattando Che senso ha che non posso trattare Solo perché Non è 5 che devono arrivare Cioè ma Ma non ha senso sta cosa Ma perché Vabbè Va bene Ok ok Aspetteremo gennaio Comunque ragazzi Direi che è tutto per il momento La prossima volta Ci aspetta la dentella Poi Poi il Lecce C'è C'è il Lecce ragazzi Attenzione Eh potremmo dare una bella botta Al Lecce Potremmo provare Perché Se iniziamo con il Lecce Magari si demoralizza Non si sa mai Non si sa mai Tant'altro La prossima volta Il calendario Dice che Dove è il calendario Che non mi ricordo Programma No Contro chi è Lecce Contro chi è Contro Vicenza Vabbè capirai Vincerà 8 a 0 Vabbè ragazzi Dai Ci becchiamo alla prossima Grazie mille per aver visto il video E niente Ciao ragazzi Grazie